la registrazione siamo al terzo video o le tutta occorre in tre video ok qualcosa non aveva neanche un'auto qualcosa sta dormendo forse la giochiamo prima mi sta dormendo sono solo stanco stamattina e oggi come dice ho lavorato stasera sono uscito sono le tre di notte sto giocando chi sta che sbadiglio 1 che ore sono prima che gli uomini di elemissario attaccassero l'ospedale uno dei miei ha caricato dei vaccini su un camion per portarli al sicuro purtroppo è stato fermato a un posto di blocco dell'unità dove hanno confiscato il camion i vaccini sono vitali il camion è alla base dell'unità adesso so che vi chiedo molto ma francamente non c'è nessun altro in grado di farlo capito faremo il possibile bene dovremmo infiltrarci in un'altra base dell'unità e vista la situazione in questo questa regione rispetto all'altra penso che sarà tipo devastante ci siamo quasi al sesto lo so lo vedo lo vedo il camion dov'è il camion è da un'altra parte la base dell'unità la base la facciamo adesso dopo questo obiettivo facciamo anche il camion e abbiamo finito la regione per il di live oppure al prossimo giro no al prossimo al prossimo facciamo questo poi ah ma c'è lo stone ci dimenticherà presto quello invece no e c'è anche una ghettling quindi quello oh c'è la punta speriamo non si siano allertati di sopra siamo di nuovo stealth posto posto eh sarà difficile conquistare una base in cima alla montagna però qui abbiamo un'auto più corazzata di quella di prima che alla ghettling quindi nel caso abbiamo modo di sfondare in qualche modo non so se entrare così sia proprio una buona idea vado a destra cazzo mi sta sembrando che un cecchino posso votare questo secondo persaglio è libero all'eliminazione o è sottotiro di qualcuno libero libero ok un secondo madonna un cecchino già ancora di altri tre il drone è partito è un covo di merda un'unità della zona d'arco forse è in risposta a tutto il casino che abbiamo fatto ho visto hai visto qui al centro cosa c'è si viste tira una granata hai il gl tu no? no però me lo compro lo sblocco allora io farei pulizia il più possibile sui fianchi così a meno problemi e poi tiriamo una bella gl lì faccio sul tetto che è pieno di gente non aspetta che sblocco l'anciera nato è pieno proprio pieno eh qua forse è brutta mi sa sai un'altra idea quale può essere il jeep al centro con la ghettling che è coperta su tutti i fianchi e dopo la gl si fa di quello intanto finisco lo spotting il problema è spottare l'interno l'ho sbloccato dammi un secondo e ti spotta anche l'interno all'edificio ok si sono entrato dammi un secondo come si sa vanno a cercare la pomiglio mentre mi switchi mentre mi switchi minchia e li voglio vedere a spottare la sola entrata insomma finestra aperta attraverso finestra lo vedo ha l'auto la ma aspetta aspetta hai ingaggiato? si stanno ammazzati tra di loro? probabile si sono ammazzati tra di loro c'è una strage in atto potevamo farlo subito fantastico c'è ne sono tre dell'unità sul tetto non cittadini cominciamo a fare un po' di polizia in state finché questi si ammazzano tra di loro mi sa che hanno vinto quelli del nulli davvero? no no sono rimasti tre ed è pieno di arancioni ok allora facciamoci gli arancioni piano piano i tianchi sono liberi ma dai ma guarda questo dove cazzo è uscito? io devo sfruttare quelli qua dietro l'unità ha abbracchiato rinforza e mi sa piazza le mine allora non si sa mai provo a entrare dal muro qua a sinistra io sono dentro eh dentro recinto per i contatti a sinistra? no no non ne vedo no ha pulito si ok io sono a sinistra destra diciamo che sono rimasti solo due stronzi dell'unità sul tetto ok piano e con calma saliamo c'è un solo modo per salire dall'interno le schede fanno un po' lo schifo quindi facciamo con calma ok ok piano vai è scappato uno di sopra perfetto è appena salito sinistra libera vado dietro aspetta entrare eh voglio registrarlo dai cazzo signore e signori e l'emissario ci è sfuggito ha preferito uccidersi che affrontare suo nonno che brutta storia abbiamo spinto noi a farlo davanti basta stronzate ha fatto una scelta dobbiamo controllare il corpo vedere se ha qualcosa addosso un biglietto da suicida Bowman qui Nomad abbiamo trovato l'emissario è morto cosa è successo? si è suicidato ha lasciato un biglietto al suegno si è addossato la colpa per la perdita dei laboratori a Okoro secondo Midas non ha retto la vergogna di aver deluso suo nonno quel brutto idiota avevamo il iaio in nostro potere e ora? forse non era quel disastro che credevamo non ha ceduto nel modo previsto da volte succede le fai spesso queste cose? faccio quello che serve per portare a termine le missioni come voi bene a questi due? ci poi andiamo a facciare qui ho un video disponibile ok ok l'abbiamo messo in crisi a me non ha dato nessun video poi dimmi il titolo del video c'era un modo per rivedere che dovrebbe essere dossier kingslayer ma non è che te l'ha dato interagendo col tizio no dopo la chiamata della tipo come sempre quando parliamo con la tipo a me da un solo video che è quello briefing tutto il resto non me lo dà non so fare una cosa per un attimo in mappa quindi nella regione attuale clicchi la rotellina dossier kingslayer quanti video sbloccati c'è uno solo esperto si due due video registrazione vecchia amiche e briefing di bohman io sono il briefing andiamo a registrazione vecchia amica non è video con l'ho fatto vedere la registrazione qual è il video allora no 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 ci torniamo come cazzo vedere rigiocarla direi di no vabbè lo cercherò e lo rifaremo al massimo al prossimo giro vabbè mister allora ci si saluta non abbiamo preso l'arma mentre aveva nella base di su lasciamo stare al prossimo giro ma l'abbiamo già pulito con la pata e sicuramente sono rispondati la prossima volta la vista buona nocia esatto